C'erano anche Michele Ruzier e Pippo Ricci nella serata di presentazione dei camp estivi Vanoli rivolti ai ragazzi dai 6 ai 17 anni appassionati di basket. Un camp di una settimana dalla 29 giugno al 6 luglio a Madonna di Campiglio per migliorare la propria tecnica o avvicinarsi ad uno sport che appassiona sempre di più, complice alla grande stagione della Vanoli Cremona. I posti sono solo 50 e la quota è di 450 euro o 400 euro per l'eventuale secondo familiare. Andrà versata in parte entro maggio con 200 euro di caparra e il saldo prima della partenza. Comprende il trasporto, il soggiorno in hotel a pensione completa, due gite, le lezioni tecniche e la copertura assicurativa. I ragazzi saranno divisi in gruppi per età e capacità tecniche e allenati da istruttori specializzati di mini basket e pallacanestro. La presentazione a cui hanno partecipato tanti ragazzini con le loro famiglie è stata anche l'occasione per l'assistant coach Flavio Fioretti di illustrare il programma del suo camp negli Stati Uniti, organizzato dalla società Universal Basket 2010 in collaborazione con la Rowan University che si trova in New Jersey. Un progetto che negli anni ha raccolto sempre più adesioni e che di fatto anche per l'estate 2019 è praticamente già sold out. La serata è stata anche arricchita dalla presenza di Riceruzziere che tra foto e autografi non si sono sottratti all'affetto dei piccoli tifosi bianco-blu.